Alleluia! 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 Il Signore si manifestò per creare il mondo. La parola del Signore era luce nei fulsi e nelle tenebre. Ecco la prima notte. Alleluia! 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 Il Signore si manifestò ad Abramo. Isacco, il figlio amato, fu offerto in sacrificio. Ecco la seconda notte. Alleluia! 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 Il Signore si manifestò agli egiziani. La sua destra protesse i primogeniti di Israele. Ecco la terza notte. Alleluia! 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 Il mondo giungerà alla sua fine. Il Re Messia verrà dall'alto dei cieli. Ecco la quarta notte. Alleluia! 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 Il Signore si manifestò nella pienezza dei tempi. Il Messia Gesù è risorto da morte. Ecco il giorno unico. Alleluia! 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 Il Signore... Alleluia! Alleluia!